In quest'ultimo periodo non abbiamo fatto altro che parlare di Barbie di Greta Gerwig, di Oppenheimer di Christopher Nolan che, ricordiamo, approderà nelle sale italiane sul finire di agosto, eppure dopo il fenomeno Barbie-Nheimer c'è il fenomeno Talk to Me. Nuovo horror di produzione A24 che arriverà in Italia dal 28 settembre 2023, diretto da due fratelli australiani che si chiamano Michael e Danny Filippo. Documentandomi su internet, visto che non li conoscevo, ho scoperto che abbiano mosso i primi passi nel mondo dell'horror attraverso video appositi che facevano sul loro canale YouTube. Amanti del cinema horror sono passati dietro la macchina da presa per realizzare questa pellicola che da tanti, ascoltando recensioni da parte del pubblico e della critica, è considerata fra le più belle degli ultimi anni. Ora, magari è vero, ho visto il trailer, ve ne voglio parlare, però non mi sembra, almeno da un primo trailer uscito, di essermi ritrovato di fronte ad un qualcosa capace di farmi strappare i capelli. La storia mi sembra standard, già vista e rivista, poi, come dico sempre, non conta quante volte racconti una storia, ma come la racconti. Solo che la curiosità mi è salita, più che per il film in sé, per capire quanto quel logo A24 influenzi. Perché mi sono reso conto che basta che ci sia il logo A24 che tutte le persone vanno in brodo di giungiole. Non è sbagliata questa cosa, perché effettivamente la A24 ci ha abituati, tantissime volte, a prodotti di grande qualità. Ma dall'altro lato, sembra quasi che questa casa di produzione non possa mai sbagliare. Nel mio caso non è così. Potrei citare Everything Everywhere All At Once, ma non ho voglia di riaprire polemiche, per me è un film orribile. Però ecco, questa cosa l'ho percepita, e quindi sarò proprio desideroso di recarmi in sala per poter dire, cavolo Paolo, quanto ti sbagliavi, perché il trailer magari non era un granché, ma il film è straordinario. Del resto, la A24 ci ha sfornato quella bellissima pellicola che è Babadook, dove tra l'altro i due fratelli australiani hanno lavorato. Quindi, pensate un po'. Poi leggendo su internet ho scoperto che presto dirigeranno un adattamento di Street Fighter, quindi si passa da un genere ad un altro. Ma tornando all'horror, il trailer è molto basico. Si parla di morti che arrivano nel nostro mondo dopo una seduta spiritica, ad ipnosi, insomma, c'è questa mano mummificata, c'è un trend che va di moda, registrato ovviamente da tutti i partecipanti con il cellulare, perché questa è l'epoca di TikTok, dei social, e chi più ne ha più ne mette, e quindi stringendo questa mano tu ti lasci ipnotizzare, finisci in un altro mondo, ma poi tornando indietro riporti con te queste creature demoniache, malvagie. Ecco, questa è la trama a grandi linee che noi scopriamo attraverso questo trailer di due minuti e mezzo, che mi è sembrato sicuramente interessante, ma niente di allettante. Sicuramente la A24 dà la possibilità a giovani e talentuosi registi di farsi conoscere, questa è una bellissima cosa, un po' come fa la Grovellandia in Italia, ma proprio come talvolta la Grovellandia sbaglia, a mio parere, perché non sempre tutti i film sono riusciti, non è che la A24 sia esente da difetti. Però, se l'alternativa è quella di non dare spazio ai giovani registi, allora meglio che arrivino nelle sale anche film non riusciti, ma che comunque possono diventare dei fenomeni, perché del resto, lo dicevo prima, non si è fatto a tempo a finire di parlare di Barbie Nimer, che sui social, specialmente su TikTok, ma su queste piattaforme, anche dove la verticalità regna, non si fa altro che trovare clip di Talk To Me, oppure qualche tempo fa c'era ogni attimo una nuova clip pubblicata di quel film basato sui bambini che dormono nella notte, che ancora inedito in Italia lo dovrebbe distribuire la Midnight a breve, quindi sarò curioso di vederlo e mi ispira molto più di Talk To Me, però effettivamente in questo trailer si respira un'atmosfera che può strizzare un po' l'occhio all'esorcista, può strizzare un po' l'occhio a quelle pellicole che ebbero un discreto successo fra il 2013, 14, 15, perché se vi ricordate ai tempi andavano di moda pellicole come Unfriended oppure come Friend Request che sicuramente basavano il voler anche spaventare il pubblico, basavano le loro storie volendo spaventare il pubblico su cellulari, quindi la tecnologia, oggi vanno meno di moda questi film, eppure Unfriended, il primo a me piace tantissimo, è criticato da tanti, per me è un bellissimo horror, capace veramente di spaventarmi, anche qua mi ha incuriosito più del film in sé, delle possessioni, dei morti che arrivano nel mondo, di queste cose, ripeto, che noi amanti dell'horror già conosciamo, poi bisogna vedere come le avranno sviluppate, mi ha colpito molto l'aspetto dei giovani che preferiscono più condividere che vivere, no? E quindi in continuazione con i cellulari in mano, e questa è la cosa interessante. Quindi, ho deciso di parlarvi di questo trailer più che altro per chiedervi la vostra. Magari persone che vivono in America, che mi seguono sul canale, già lo han visto perché è uscito da tutte le parti, ci sono anche delle recensioni negative, eh? Ci mancherebbe, però in particolar modo se ne parla in maniera lusinghiera. E quindi io voglio capire anche quanto tutto questo sia influenzato da quel logo A24, perché oggi più che mai i film si, come si dice, idealizzano ancora prima che escano. E quindi capiamo, capiamo un po' perché sono il primo ad aver amato degli horror negli ultimi anni, a cui magari dal trailer non davo due lire che poi mi hanno lasciato a bocca aperta. Se penso a pellicole di nicchia come The Witch, per me uno degli horror più belli veramente, degli ultimi vent'anni. Se penso a Babadook, che addirittura la prima volta non mi piacqua, poi lo rividi e dissi, Paolo, ma come sei stupido, l'hai guardato male. Babadook è un qualcosa di meraviglioso, proprio prodotto dalla A24. Quindi vediamo, vediamo un po'. Sicuramente ho più attesa per Talk To Me che per l'ennesimo The Nun, per l'ennesimo film su bambolotti assassini, su congiure varie, insomma, lo sapete, ormai il cinema horror, a parte la ricasi, non riesce mai a soddisfare. Se penso anche all'anno appena trascorso, mi viene in mente Scream 6, se penso agli ultimi anni, mi viene in mente Man di Alex Garland, mi viene in mente, che ne so, Barbarian. Ecco, Barbarian è un fenomeno similare, secondo me, perché l'anno scorso il titolo di punta di cui tutti parlavano era Barbarian, che poi da noi non è uscito nelle sale, ma solamente su Disney Plus e che ho trovato bellissimo, trovereste la recensione sul canale. Vediamo se questo Talk To Me riesce invece a dirmi qualcosa in più, ma dal trailer, purtroppo, non ho ricavato alcunché disbalorditivo. Poi sarò il primo a ricredermi, perché molto spesso i trailer sono fatti anche per marketing in un certo modo. Ragazzi, io vi esorto a farmi sapere la vostra, poi ci sentiamo quando volete qua sotto nei commenti così ne discutiamo. Vi ricordo che nelle info potrete trovare tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social, ma anche per abbonarvi al canale. Se poi deciderete di abbonarvi a questo canale, riceverete in cambio dei contenuti extra, oltre alla normale programmazione quotidiana, come la possibilità di videochiamarmi in privato, chiedermi film da recensire, partecipare alle mie live e insomma, tante altre belle cose su cose. Viva l'horror, ora e sempre, e noi ci vediamo molto presto. Ciao ciao!